Rimane altissima la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano Donald Trump in un tweet ha messo in evidenza che la Corea del Nord cerca guai. Se la Cina decidesse di aiutarci sarebbe magnifico, altrimenti risolveremo il problema senza di loro. Pochi giorni fa il TICON americano aveva ordinato alla porta aerei Vinson di spostarsi verso la penisola coreana. La stessa Corea del Nord ha attaccato gli Stati Uniti e promette due controvisure alle azioni offensive. Tra l'altro gli stessi nordcoreani hanno toccato una fase seria dei loro scenari dopo il fallito lancio di un missile avvenuto mercoledì della scorsa settimana. Intanto il Giappone e la Corea del Sud sono al bianco degli Stati Uniti in questa nuova condizione. Dunque dopo l'attacco della Siria contro la Siria che aveva suscitato inevitabili polermiche Trump è deciso a far l'abilita con i nordcoreani. Mimmo Sena, Speciale News.